In questo video andremo a parlare di questo Ryzen 5 2006, una CPU di fascia media del 2018 che attualmente può essere pagata solo 40€ Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati qui sul canale del vostro Nintendo Ropazzo Oggi siamo qui con questa recensione, diciamo, nel 2023 di questo Ryzen 5 2006 CPU molto famosa perché è stata super popolare, ha spopolato proprio nel 2018-2019 perché era una soluzione relativamente economica che permetteva di giocare bene a tutti i titoli allora presenti sul mercato, ma anche oggi vi spoilerò subito se la cava è relativamente bene e appunto costando quei 130-140€ all'epoca e quindi insomma si presentava sicuramente come una soluzione diciamo economica ma non troppo e quindi insomma ancora aveva anche un po' di prestazioni effettivamente da offrire e in questo video appunto andremo a vedere come si comporta oggi in applicazioni semi-professionali, professionali e ovviamente anche in gaming e andremo a considerare se effettivamente può essere una valida alternativa per chi si vuole buttare su una build comunque economica spendendo il meno possibile sulla CPU e comunque su una piattaforma che insomma offra anche una certa pagheritabilità ovviamente prima di continuare col video vi invito come sempre a iscrivervi qua sotto al canale attivando anche la campanella per ricevere tutte le notifiche così da non perdervi nessun video che uscirà sempre qui sul canale ovviamente vi invito anche a iscrivervi ai miei due canali telegram di offerte uno per le offerte che riguardano il nuovo e uno per le offerte usate in entrambi i casi si tratta di offerte che riguardano i videogiochi e l'hardware ovviamente si su amazon quindi state ovviamente tranquilli e sicuri e fate un favore a voi e al vostro portafoglio quindi mi raccomando iscrivetevi detto questo vi ricordo anche di seguirmi su instagram e ora riprendiamo con questo ryzen 5 2006 il ryzen 5 2006 si basa sull'architettura zen plus che era un refresh dell'architettura zen la prima insomma uscita con i ryzen è una cpu 6 core 12 thread con frequenza massima di turbo a 3,8 gigahertz ovviamente overclockabile e anche qui poi vedremo nei benchmark i risultati anche da overclockato però dovete sapere insomma che come overclock come margini di overclock insomma non raggiunge chissà che cosa infatti andremo a vedere io sono riuscito a portarlo con un voltaggio comunque molto blando a 4 gigahertz però ecco a 4 e 1 ci si può arrivare ma già oltre insomma è quasi impossibile ecco con sistemi di raffreddamento ma poi anche proprio architetturalmente parlando non sono cpu fatte per arrivare a frequenze di clock molto elevate ma al di là di questo comunque ecco secondo me è una cpu interessante per il fatto che attualmente la possiamo pagare su aliexpress per esempio 40 euro e diciamo ecco una volta un prezzo del genere ce lo sognavamo perché cpu come questa costavano il doppio sostanzialmente e però ecco per 40 euro insomma chi lo sa se effettivamente può convenire andremo a vedere prima i benchmark e poi nelle conclusioni ecco cercherò di indirizzare più o meno un consiglio se sul sì o sul no ecco per questa cpu quindi però prima di passare i benchmark ci tengo a fare due parole a dire due parole sulla piattaforma di test che in questo caso è ovviamente una socket m4 la scheda madre è una b450 asus rogstrix f e la ram sono 16 giga in due banchi da 8 della corsair le classiche lpx 3200 mhz cl16 e il dissipatore è una phantom della gelid solution mi sembra di aver detto tutto vabbè il solito ssd da 1 tera crucial p1 e come alimentatore uno charcon vpm gold da 750 watt ah si stavo dimenticando la scheda video che è una rtx 3080 che ho comprato di recente dal mio amico lorenzo che me l'ha ceduta a un prezzo molto di favore comunque detto questo direi di passare ora ai benchmark e vedere poi insomma nelle conclusioni se effettivamente vale la pena questo regen 5 2006 nel 2023 come primo benchmark abbiamo il test integrato in cpu z punteggio in single core 449 punti a stock in oc 462 quindi non una grandissima differenza però ecco in multi core passiamo da 3513 a 3769 quindi già ecco questo boost nella frequenza diciamo che non è male e lo ritroviamo anche in cinebench dove il punteggio in multi core comunque è un po' più alto di circa 500-450 punti mentre quello in single core comunque una quarantina di punti in più che comunque ecco non fanno così schifo passando poi invece a 7 zip con compressione e decompressione abbiamo dei valori anche qui non troppo discostanti per quanto riguarda la compressione 43.448 punti contro 44.291 mentre in decompressione ecco abbiamo un incremento già di 3000 punti 200 in più rispetto alla versione a stock passando a blender open date a 3.4.0 il punteggio combinato a stock è di 117 punti e con l'overclock a 4 gigahertz arriviamo a 122,64 punti quindi non una differenza abissale ma effettivamente anche si rispecchia ecco nelle frequenze che è soltanto 200 MHz in più rispetto al boost passando ovviamente a blender bmw demo abbiamo un tempo a stock di 292 secondi che viene abbassato a 277 secondi con l'overclock cosa molto simile ecco anche in classroom l'altra demo a stock abbiamo 683 secondi come tempo di rendering mentre con l'overclock a 4 gigahertz lo abbassiamo di una trentina di secondi quindi devo dire che comunque non è male anche qua per un overclock alla fine è molto blando passando a corona 1.3 benchmark a stock abbiamo un tempo di rendering di 167 secondi mentre in overclock a 4 gigahertz lo abbassiamo anche qui a 160 secondi e ora direi di passare ai giochi come primo gioco abbiamo control testato in full hd e settaggi di digital foundry a stock abbiamo un framerate medio di 137 fps e in overclock praticamente rimane invariato quello che cambia però è l'1% low e anche di parecchio probabilmente ecco forse la prima run aveva avuto qualcosa di strano perché effettivamente l'incremento è quasi del doppio comunque passando a battlefield 5 testato in full hd sempre e settaggi maxati a stock abbiamo un framerate medio di 123 fps e in overclock insomma 126 fps anche l'1% low è praticamente lo stesso quindi diciamo non andrete a notare chissà quali differenze comunque rimane sempre un'esperienza molto godibile sopra i 120 fps passando ora a fortnite testato sempre full hd e settaggi medi abbiamo un risultato a stock di 140 fps che è praticamente identico insomma al risultato in overclock e cosa ancora più assurda il risultato dell'1% low è identico a quello insomma del test fatto in overclock pur essendo insomma due game completamente diversi e considerando ecco anche l'overclock stesso della cpu quindi qui davvero ecco su fortnite almeno con questa cpu con questo overclock insomma non cambia molto dalla versione a stock passando ora a cyberpunk 2077 testato sempre in full hd e settaggi di digital foundry qui vediamo un piccolo incremento comunque nell'average anche l'1% low perché passiamo da 70,7 fps a 76 fps con l'overclock e un 1% low di 49,7 fps per l'1% low dello stock che viene passato ecco a 54 fps nella versione overclockata quindi anche qui devo dire non è male cyberpunk ovviamente è anche un gioco molto cpu intensi vi vedrete anche dal grafico passando ora a death stranding testato sempre in full hd settaggi però maxati abbiamo un risultato a stock molto simile a quello dell'overclock e anche anzi in 1% low a stock diciamo abbiamo un risultato un pelino più alto questo ovviamente è anche riconducibile probabilmente al margine di errore insomma e alle due run diverse insomma di quando ho registrato uno e quando ho registrato l'altro però insomma alla fine ecco qui non cambia chissà quanto ecco le prestazioni ma ovviamente ecco anche l'overclock diciamo è molto marginale in questo caso perché alla fine abbiamo aumentato praticamente 200 MHz in più rispetto alla versione insomma a stock e passando ora a resident evil 2 remake testato ovviamente full hd e settaggi alti a stock facciamo 183 fps che è un pochino di più dell'overclock perché è 180 ma anche qui si riconduce quasi al margine di errore e l'1% low infatti a stock è 95,8 fps mentre con l'overclock ha 98,5 fps quindi anche qui diciamo non sono differenza ecco che è notata in gioco insomma tra stock e overclock e ora direi di passare all'ultimo gioco cioè Counter Strike Global Offensive gioco ovviamente molto cpu limited per il fatto che va a sfruttare solo un core e quindi ecco qui la differenza con l'overclock si nota un pochino perché ovviamente le prestazioni sul singolo core vengono un pochino aumentate passiamo da un average di 216 fps con un percentual di 92 a 230 fps in average con l'overclock e un percentual di 103 fps quindi anche qui un pochino meglio però magari non sono proprio differenze che si notano in gioco detto questo direi di ora di passare alle conclusioni di questo video e che dire ragazzi io devo essere sincero sono rimasto stupito per quanto riguarda i benchmark nei giochi soprattutto perché mi aspettavo insomma di non trovare ecco risultati con centinaia di frame in alcuni casi però devo essere sincero sì insomma avete visto anche voi ecco si difende molto bene anche i titoli AAA come anche Cyberpunk o Control, Death Stranding insomma anche in quei casi pur ovviamente essendo accompagnato da una scheda come la 3080 riesce ecco in full HD ovviamente i risultati per insomma accentuare quello che è il bottleneck poi sulla cpu ma comunque ecco anche a 100 frame ci arrivavamo ecco forse Cyber qua è anche l'unico caso in cui insomma ci teniamo comunque un po' bassini però ecco questo per dire che comunque è una cpu che vi permette alla fine di giocare a tutto quanto anche Fortnite comunque a 144 fps ci arrivava senza particolari problemi anche oltre alla fine poi dipende ovviamente dalle scene e tutto quanto ma questo lo sapete benissimo e per quanto riguarda la produttività comunque anche lì devo dire che ci si può togliere diverse soddisfazioni soprattutto considerando il fatto che è una cpu che vi costa 40 euro qualcuno di voi potrebbe obiettare ma scusa ci sono gli Xeon da 16-18 core in alcuni casi che costano più o meno queste cifre e ovviamente vanno di più quello sì è vero però dovete considerare che in quel caso poi cioè quelle sono le cpu più potenti che potete prendere nel caso delle X99 o anche X79 mentre nel caso del socket m4 questa è la base di partenza e devo dire che come base di partenza insomma un Ryzen 5 2006 è ancora un'ottima cpu se poi consideriamo il fatto che vi ritrovate in questo caso una scheda madre con socket m4 per il futuro fra qualche anno che ne so che uscirà qualcosa di pesantissimo vorrete insomma giocare a più fps quello che è insomma in base alle vostre esigenze potrete sicuramente upgradeare anche a un Ryzen 9 59 50X cpu da 16 core 32 thread o per esempio anche un Ryzen 7 500 8X 3D quindi davvero è da tenere bene in considerazione il fatto anche dell'upgradabilità della piattaforma e in questo caso ripeto questi Ryzen sono sicuramente in vantaggio rispetto agli Xeon ma quindi nel 2023 conviene ancora comprare un Ryzen 5 2006? secondo me sì ovviamente dipende dai casi perché allora se ovviamente dovete fare un upgrade diciamo dipende da cosa partite certo se avete per esempio un Atron 200G nel vostro muletto comunque nel vostro computer ultra economico questo è sicuramente un bel passo in avanti insomma andate a spendere veramente poco se volete fare un computer da zero e comunque ecco avete un budget molto molto risicato comunque ecco sappiate che ecco questa cpu con 40 euro ve la portate a casa vi fa giocare bene o male a tutto e vi fa fare tutto c'è comunque potremmo dire il grande elefante della stanza cioè che vi ho detto i prezzi delle cpu sono scesi in generale un po' per tutte quante e questo vuol dire che in realtà già con 75 forse anche 70 euro se siete fortunati vi potreste portare a casa un Ryzen 5 36 o 36X che sono cpu che effettivamente vanno abbastanza più forte di questo 26 liscio ovviamente sono cpu sempre a 6 core 12 thread però ovviamente l'incremento dell'ipc non è cosa da poco magari anche nelle frequenze riuscite anche a boostare qualcosina in più quindi devo dire magari se volete spendere quei 30 euro in più 40 euro in più a dire tanto potrebbe insomma valere la pena anche considerare uno di quei modelli o magari anche lo stesso Ryzen 7 2700X che era diciamo il top di gamma di questa generazione che è un 8 core 16 thread lo si può trovare intorno ai 60-65 euro quello poi dipende insomma da quello che fate se avete bisogno di più potenza in multicore o magari più potenza in single core comunque tutto questo discorso per dire che basta spendere effettivamente poco di più per trovare tante altre alternative che comunque ecco sono da tenere in considerazione soprattutto se avete insomma quel pochino di budget in più per permettervelo perché ecco ci sono poi per esempio anche Ryzen 7 37X insomma cpu 8 core 16 thread che va ancora molto bene e quella anche lì su aliexpress ma anche su subito ebay la potete trovare intorno ai 110-115 euro quindi fate un po' i vostri calcoli se vi conviene o meno però secondo me ecco se avete questo budget e insomma non volete spendere oltre ecco per 40 euro almeno adesso l'alternativa c'è ed è un bel Ryzen 5 2006 quindi arrivati a questo punto del video io come sempre non posso far altro che consigliarvi due video che se non avete visto vi invito a guardare il primo è quello sull'Atron 200GE cpu 2 core 4 thread sempre su socket m4 quindi sempre per chi magari di voi è interessato a robe molto molto budget mentre il secondo video riguarda l'oxeon 2696v2 cpu su socket ovviamente completamente diverso sto parlando dell'LGA 2011 quindi piattaforma x79 che attualmente può essere pagato 16 euro quindi davvero se siete interessati mi raccomando i video sono comparsi qui detto questo io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video e noi come sempre ci becchiamo alla prossima ciao a tutti ragazzi ciao a tutti